credo che ci siano delle sfide che vadano accettate senza porsi troppe domande e questa è una di quelle e poi mi pare molto bello e importante che tante persone si passino di mano in mano idealmente in giro per il mondo questo testo che arriva da un paese che ha bisogno di tantissima attenzione senz'altro è un'esperienza che rende molto irrequieti e non è rassicurante però sono anche molto contenta